3, 2, 1, via! Parte anche la seconda batteria della categoria G2. Grande la partecipazione di questi atleti di 8 anni, con batterie piene nonostante la divisione. Anche qui partenza a tutta, con il Plotone Sgranato che transita sotto lo striscione alla fine del primo giro. Un drappello ora ha guadagnato un leggero margine. In testa vediamo Valle Camonica, Guidizzolo, Ronco, Fulgor, Mazzano, Monte Clarence, Spirano, Pagnoncelli e Vanotti. Ma siamo all'arrivo dove transita vittorioso Savio Stefano della Spirano, che precede Turrini Simone della Guidizzolo, Faita Marco della Ronco, Crotti Stefano della Pagnoncelli e Pastorelli Filippo della Monte Clarence. Grazie a tutti!